Ueo ueo rigatoni qua manca la carne da porco di un'ora abbiamo fame minchia zio potevo farmelo io sono grotto se non li metti giuro che ti uccido testa di culo il progettista chippi chappi chippi chappi 2 volte rescue us now rescue us now to business oh my god oh my god rescue us is my the riziko 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 man so rescue us now rescue us now the business oh my god oh datore ma c'ho pappite di merda su alla suca micchia oh ma che cazzo ti presi oh ma che cazzo ti presi oh ma che cazzo ti presi ragazzo patatine questo è il famoso dio cazzo che l'hai il rodino suca 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 yao uso la scheda sim non sono della team però sono un gran coglione e lavoro da vodafone mi chiede il nome polizio 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 come il nome polizio 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 ma mi accorso tipo me chiama su alla palla miau il suo nome è jack libalese un transessuale un transessuale